Da domenica 10 a martedì 12 febbraio Castellabate festeggerà il carnevale con spettacoli per bambini, sfilate di carri allegorici e animazione musicale. L'evento è organizzato dal comune in collaborazione con il comitato costituito dai presidenti delle associazioni del territorio. Il primo appuntamento sarà domenica alle 10 in Piazza Lucia con uno spettacolo dedicato ai bambini, con mascotte Disney, pagliacci, giocolieri e animazione musicale a cura dell'agenzia Sorrisi e Servizi. Alle 14.30 i carri allegorici sfileranno da Piazzale Punta dell'Inferno fino a Piazza Lucia. A partire dalle 18 animazioni musicali a cura di Radio Kiss Kiss con Lucio e Pino Belmonte e DJ Fonzi e Samba Carioca Show. Lunedì 11 alle 18 nella sala polifunzionale di Castellabate si festeggerà il carnevale dei piccoli. Martedì 12 i carri allegorici partiranno alle 14.30 da Piazzale dei Ronchi presso il Lido e il Pincio e arriveranno a Piazza Lucia dove a partire dalle 18 i festeggiamenti proseguiranno con lo spettacolo musicale a cura di Antonio Mondelli, Massimo Musto e Fabio Sarno. L'esibizione delle scuole di ballo, degustazioni e la premiazione del concorso manifestando il carnevale. Dal 5 alla 12 febbraio inoltre è possibile visitare a Corso Matarazzo la mostra pittorica Carnevale in vetrina a cura di Marisa Russo. È una tradizione che si era persa e che ho voluto riprendere, per questo ho riunito le associazioni attorno ad un tavolo per collaborare tutti assieme all'organizzazione del carnevale, dice il sindaco Costabile Spinelli. Il programma che è stato messo su dimostra che l'esito è stato positivo. Ci auguriamo di regalare a tutti tre giorni di allegria e divertimento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.